Le persone con disabilità sono cittadini come tutti gli altri. Godono degli stessi diritti. Non diritti speciali. Gli stessi di tutti gli altri cittadini. Modice dal 2006 la Convenzione Omi. Il diritto di scegliere dove e con chi vivere. Il diritto di lavorare. Il diritto di seguire le proprie aspirazioni. Perché queste non restino parole, servono adeguati supporti personalizzati. Sì, perché ogni disabilità è diversa. Ogni persona è diversa. Le persone con disabilità devono poter creare il proprio progetto di vita con i sostegni necessari. Come un abito cucito su misura per trasformare i diritti in vita vera. Questo è quello che vogliamo. Insieme la nostra voce sarà più forte. Grazie. 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 Grazie.